Prima ripresa, ciò! 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 Taglia l'angolo Luca, me lo vedete che respira male, taglia l'angolo! 30 secondi Luca, gli diamo il round! A scatti Luca eh! Metti il medio per chiudere! La fuente, la fuente, bravissimo! Oh Rucido, lucido, tu hai la mobilità eh, ti vuole fare il duro, diregno. E un metro indietro. Mi piace, ci sono, mi piace, mi piace. Ottimo! 30 secondi andati. Dai Luca, sei molto pieno che hai. Oh, ci viene dato treno, abiliato bravo. Dai, arrivi. Stanto, stanno, 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 stanno. Ora, andiamo, stanno, 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 stanno. Buono, buono, Luca. Non strafare, Luca, non strafare. Luca! Non ti vede Luca, non ti vede! Non ti vede! Eeeeeee! No! 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 Pura avanti, pura indietro! Bravo! Stai, stai! Oh! 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 Luscito! 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 Luscito non strappare! Ecco! Sei avanti, sei rettamente avanti! Luscito! 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 Non devi strappare Luca! Equilibrio! Ecco! Non strappare Luca! Bravo! Un minuto ancora! Go! Non la buttiamo sulla tavola! Non ci conviene a noi! Non la buttare sulla lista! Non ci conviene a noi! Luscito è assoluto! Luscito! 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 Spinta a calcio e metti i punti! È comito a verticale! Stabilizzati! Comito a calcio! Comito a calcio! Nostra pare... Aiuta... Condiciamo! 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 Giudice, giudice, terza ripresa, ciao! Sì, 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 sì! Grazie a tutti. Ruta! 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 Luca Tomassini-Falco! Ruta-1 WBC Lightweight!